Ciao ragazzi, prima di iniziare col video vi faccio un piccolo minuto in un sponsor dove se volete comprare degli ottimi giochi a prezzi veramente contagiosi ci sono gli amici di Eneba e potete comprare degli ottimi giochi a prezzi veramente bassi oppure se volete delle gift card potete andare sul sito, sul loro sito di Eneba, degli amici di Eneba vi lascio il link qui sotto e pure in descrizione e niente, vi lascio al video, ciao ragazzi Grazie 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 Grazie. 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 Grazie.